Musica Qui abbiamo Best Technology Innovator, lo sponsor è Luxoro, eccolo, e quindi premi a Mario Gaviglio, business manager settore grafica di Luxoro, grazie, qui ci sono molti tra i suoi clienti, molti clienti, molto onore, perfetto, e qui è un colosso che vince, dai, Rotolito Lombarda, dov'è Emanuele Bandecchi, la nuova generazione. Musica Benvenuto, grazie. Allora, qui abbiamo il direttore marketing e progetti speciali. Fondamentalmente non è solo, diciamo, bello investire in tecnologia, ma è necessario in questo momento, perché è questo momento onestamente difficile, e dove, appunto, avere la forza di guardare avanti, investire, significa molto in previsione futura, per cui, insomma, siamo onorati di ricevere questo premio. Musica